Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, secondo video di giornata, in realtà dovevo uscire un altro video, un argomento un pelo più frivolo, lo lasciamo a domani e oggi concentriamoci ancora sulla crisi della Juve, la crisi, la non qualificazione, le conseguenze economiche della non qualificazione ai ottavi di finale della Champions. Ma prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché gran parte di voi che guarda i video non è iscritta al canale, quindi mi raccomando e vi invito a scaricare da BuonFootball, trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere sempre sul pezzo aggiornati sulla Juve e sul calcio in generale. Allora, non so neanche da dove iniziare, sono tanti gli argomenti, partiamo dalla perdita puramente economica della Juventus, con l'uscita e l'eliminazione della Champions anzitempo ai gironi. Allora, sappiamo benissimo che l'ingresso a giocarsi i gironi della Champions in Italia paga una cifra molto vicina ai 50 milioni circa, tra una cosa e l'altra. E in 50 milioni cosa significa? C'è ovviamente la quota che viene data dall'UEF alla Juventus per la partecipazione, ma non solo, ci sono anche incassi da botteghino e tante altre situazioni che sono direttamente correlate all'evento Champions League. Quindi una quota consistente di denaro. Ma gli ottavi di Champions quanto avrebbero pagato? A quanto pare una cifra vicina ai 30 milioni. Ora, io vi dico, la Juve farà meno di questi 30 milioni. È un danno importante? Sì, lo è. Perché è quasi il 5% del fatturato della Juve. No, è il 5%, più del 5%. La Juve guadagna, cioè fattura circa 450 milioni di euro l'anno. Capite bene che 30 milioni su 450 sono soldi. Ora, fortuna vuole che la Juve sia sotto un cappello economico importante che è la Exor, che tanti criticano, ma ahimè io non vedo altre proprietà e sono contro la cessione della Juve ad altre proprietà. Perché se c'è un qualcosa su cui possiamo dormire i sogni tranquilli è la stabilità economica della proprietà. Ci sono altre squadre che sono state cedute a proprietà che non hanno questa solidità economica per poter reggere, appunto a livello economico, e poter rimpinguare le casse quando ci sono perdite, eccetera, le squadre in questa maniera, come fa la Exor con la Juventus. Tuttavia il danno economico è importante, sono 30 milioni che mancano nelle casse. Poi parliamo anche dell'Europa League, di quanto l'Europa League, il percorso della seconda Coppa europea potrebbe giovare per la Juventus a livello economico. Questi 30 milioni ragazzi, io ve l'ho detto, la non qualificazione in Champions ai Ottavi, quando tanti mi dicevano, io sono per le zone di Allegri, e tanti mi dicevano, ma Allegri ha un costo esagerato, la Juventus dovrebbe tirare fuori un esborso da circa 40 milioni e passa. Ora io vi dico una cosa ragazzi, il danno che la Juve può avere con la mancata qualificazione ai Ottavi, e quello lo dobbiamo già mettere in conto, e la non qualificazione in Champions per l'anno prossimo, è di circa 80 milioni. Se facciamo una semplice differenza tra l'ingaggio che percepisce Max Allegri e quello che la Juventus in questo momento potrebbe perdere dalla mancata qualificazione in Champions l'anno prossimo, e il mancato passaggio ai Ottavi, beh ragazzi, diciamo che la perdita c'è, ma fino a un certo punto, perché se la Juventus con un altro allenatore passa ai Ottavi e passa in Champions l'anno prossimo, hai già colmato insomma a livello economico il vuoto lasciato da Max Allegri, che sicuramente sarà oneroso, però era un qualcosa di fattibile, per cui la storiella che la Juve non lo può esonerare perché costa tanto, è una fesseria, perché se le conseguenze della Juventus sono quelle di non passare il turno in Champions League tenendosi Allegri, così il danno secondo me è maggiore, perché è un ingaggio oneroso e non percepisce un euro da una delle fonti di guadagno più importanti che attualmente la Juventus ha, perché ricordiamo, le due fonti principali di guadagno della Juventus sono legate da diritti tv, poi c'è la Champions League, poi ci sono gli sponsor e poi c'è la commercializzazione del brand. Infatti quando vedo tanti che criticano spesso le attività di marketing della Juve, che spesso sono staccate e sono a sé stanti rispetto alle logiche sportive, perché la Juve non sta andando bene a livello sportivo, però pensiamo al marketing è una stronzata, perché la Juventus rispetto a tante altre squadre europee deve colmare proprio il gap della commercializzazione del merchandising del brand, perché se andiamo a vedere le altre voci ci sono squadre che possono permettersi anche la non partecipazione di un anno in Champions League, ma hanno un'economia stabile nella commercializzazione del brand, hanno oltre 100 e passa milioni di ricavato e queste squadre dromano sogni tranquilli comunque. Noi ahimè abbiamo un bilancio che è per lo più risicato e legato alla partecipazione alla Champions League e ai diritti tv interni e questo è un dato di fatto, per cui la situazione è questa. Ripeto, poi la non qualificazione l'anno prossimo potrebbe portare a un danno di 50 milioni circa, giusto per farvi un'idea. Ed è per questo che il signor Colpo Goba a livello economico riteneva sostenibile l'operazione dell'esonero e l'ingaggio di un nuovo allenatore, perché oltretutto c'è da ragionare su una cosa importante, la non qualificazione in Champions l'anno prossimo non solo non porta a quei famosi 50 milioni, ma tanti sponsor possono ritratare il proprio contratto se nella situazione contrattuale è previsto che la non qualificazione in Champions della Juve richieda una rettifica o un cambiamento della quota di sponsorizzazione, per cui altra il danno la beffa, cioè la Juve non partecipa alla Champions League, bene, i sponsor possono tagliare una fetta di sponsorizzazione. Questo è, per esempio, il contratto di Adidas è così. Se la Juve non andrà in Champions League l'anno prossimo, l'Adidas ha la possibilità di ritagliare una parte della sponsorizzazione fissa, che in questo momento si attesta intorno ai 45 milioni circa di euro l'anno, giusto per, e abbassare quindi la quota di sponsorizzazione. Il danno oltre al danno. E così tanti altri sponsor. Credo che tanti sponsor possano sicuramente ritratare la quota di sponsorizzazione prevista da contratto. Capite bene quindi che la non presenza della Juve in Champions League è un danno enorme. Ora voi mi direte, ma è possibile colmare questa perdita con l'Europa League o con un percorso virtuoso in Europa League? Intanto pensiamo a qualificarci, perché se il Benfica fa il regalino da ormai squadra qualificata al Maccabi, noi siamo fuori anche dell'Europa League. E ci tocca vincere in casa contro il Pari, giusto per una passeggiata proprio di salute. Guardando anche come è conciata la Juve in questo momento, dettagli. La cosa che vi dico ragazzi è questa. La qualificazione in Europa League, qualora insomma arrivasse, e il percorso virtuoso fino alla finale porterebbe nelle casse della Juve una cifra vicina ai 20 milioni. Che butta via, andrebbero a colmare in parte la perdita che la Juventus ha avuto con la non qualificazione ai 8 di Champions. In parte, perché quelli erano 30, la Juve invece ne guadagna 20 con un percorso virtuoso in Europa League. Il fatto è che dobbiamo essere seri, oggettivi e analizzare la forza attuale della Juventus e di tutte le altre contendenti all'Europa League. Ci sono squadre, secondo me, che sono più forti e attrezzate di noi per la vittoria finale. Poi ho mai disperare, la Juve deve andare lì a lottare per tentare di arrivare fino in fondo. E su questo io sono d'accordo con tutte le parole che ho letto, che la Juventus deve pedalare, deve far bene, benissimo. Tuttavia, bisogna essere consci del fatto che allo stato attuale siamo veramente poca cosa anche là. E probabilmente siamo nella competizione che più un fotografa è il nostro livello attuale. Anzi, probabilmente siamo anche al di sotto, mio pensiero. Però questa potrebbe essere una buona vetrina per tutti quei giovani che probabilmente hanno voglia di mettersi in mostra, hanno voglia di dimostrare. Il Link Junior, Fagioli, Capocominutaggio e tanti altri. Però questo è. A livello economico, quindi, ragazzi, una caporetto. Rischia di essere una caporetto, non tanto la non qualificazione in Champions, agli ottavi, eccetera. Ma il non arrivare ai quarti questa stagione per poi qualificarsi in Champions. Quello è il vero danno. Quello è il danno, è la cosa che temo di più in assoluto. E vi ripeto, allo stato attuale oggi credo che anche in Serie A ci siano squadre più meritevoli di noi per risultati, gioco espresso e organizzazione. Tutto qua. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Ci vediamo prestissimo e sempre fino alla fine. Forza Juve. Grazie. Grazie.